Sì, come Casa Archilei abbiamo deciso di organizzare questo convegno, questa iniziativa, perché oltre che il mese dell'alimentazione volevamo porre l'attenzione sulle mense nella nostra città. Abbiamo constatato che dei passi sono stati fatti, ma si può fare ancora di più e meglio. Alla fine è diventato quasi un tavolo tecnico insieme agli altri soggetti che qui, ad esempio, Casa Archilei tramite il gas, quindi il gruppo di acquisto solidale, più di 130 famiglie ogni giorno, ogni settimana vengono a prendere i loro prodotti e guardano e toccano con mano i produttori. Sarebbe bello portare questa esperienza, ma anche l'esperienza di tante altre aziende agricole del nostro territorio che fanno biologico all'interno delle nostre mense scolastiche. Purtroppo, troppo spesso, e oggi ne abbiamo avuto la testimonianza, sono pochi i genitori consapevoli che magari guardano più al tortellino o alla lasagna che si dà al proprio figlio nella mense scolastica rispetto alla qualità del prodotto che viene fornito. Per questo motivo penso che bisognerà prendere un impegno con i genitori, con gli insegnanti, con i produttori della nostra città e cercare, in vista del prossimo appalto, tra uno o due anni, di incentivare l'agricoltura biologica all'interno delle mense scolastiche e, se possibile, anche cercare di far lavorare le aziende agricole del nostro territorio. L'incontro è andato molto bene, sono molto soddisfatto in qualità di presidente di Casa Archilei e naturalmente anche come assessore all'ambiente. Sicuramente dovremo rivederci, quindi l'impegno mio è sicuramente di continuare questo percorso che oggi, diciamo così, non è iniziato ma ha avuto un incentivo in più. Come assessore ai servizi educativi ho trovato questo convegno, sei quel che mangi, molto interessante e ho proposto di farne un altro invitando il personale insegnante, i cuochi e le famiglie a un livello molto più allargato perché sono passate informazioni veramente importanti, quelle del biologico, quello della filiera corta, quello del chilometro zero, quello di una educazione alimentare che va fatta partendo dalle scuole e dalle famiglie. Mi piace anche ricordare che nelle scuole, nella metà di dicembre, partiremo con la istituzione dell'orto scolastico, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Questa esigenza dell'orto l'ho ricordato riportando due ordinanze dagli statuti di San Lorenzo in campo e di San Vito che risalgono al 1400 in cui si ordinava per ogni famiglia di piantare due piante di olivo e due piante di frutta e di coltivare almeno due canne di orto. Questo è un richiamo, abbiamo detto, agli albori dell'umanesimo perché l'umanesimo nasce, vorremmo dire, e può rinascere in questi anni, anche come risposta alla crisi, come adesione alla terra, alla ciclicità delle stagioni, alla produzione del lavoro, dei prodotti, della propria alimentazione, recuperando la lentezza, recuperando la sobrietà, recuperando il piacere del lavoro manuale. La ristorazione biologica nelle mense scolastiche è una realtà. Ovviamente è una realtà che nel nostro paese va un po' a macchie di lopardo, è aumentato fortemente la sensibilità dell'amministrazione, dei cittadini e dei genitori e si riscontano comunque ancora diversi problemi legato al fatto che il prodotto biologico inevitabilmente costa qualche cosa di più e in questo momento la crisi delle famiglie ma anche la crisi degli enti pubblici fa sì che è difficile spendere qualche risorso in più per l'alimentazione biologica. Però rimane un obiettivo importante, sancito da leggi e indirizzi nazionali e regionali e per far sì che il biologico sia sempre di più implementato nelle mense scolastiche occorre che il sistema diventi un po' più efficiente, quindi che si investa di più nel valore della materia prima trovando delle strategie per aumentare appunto il valore della materia prima rispetto al costo del pasto. Attualmente un pasto costa sui 5 euro e solo il 30% va nella materia prima e il 70% va in altri servizi. Occorrerebbe invece investire maggiormente, più risorse nel valore della materia prima. Inoltre bisogna rivedere anche un po' l'organizzazione, sicuramente occorre ridurre le proteine animali, aumentare quelle vegetali, quindi con un vantaggio sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della salute. Parlo ovviamente di biologico, quindi meno proteine animali e quelle poche biologiche e più proteine vegetali biologiche. Quindi cambiare anche il tipo di menù, introdurre piatti unici, quando si tratta di alimentazione di carne cercare di utilizzare tutte le parti dell'animale, quindi trovare delle economie negli acquisti, insomma tutta una serie di processi importanti che fanno sì che la mensa sia più efficiente. Inoltre bisogna che le politiche della pubblica amministrazione stimolino la costruzione di filiere, anche qui efficienti, quindi i produttori si devono saper organizzare, saper dare il prodotto giusto nella forma più efficiente possibile alla ristorazione collettiva. I gas sono i gruppi d'acquisto solidale, si tratta qui a Fano di un'associazione composta da persone che hanno scelto di acquistare in modo consapevole. La filosofia del gas è quella di conoscere da dove viene il prodotto, conoscere il produttore, rispettare l'ambiente perché tutti i prodotti sono biologici e avere la consapevolezza di quello che si mangia. Noi scegliamo i produttori, i produttori scelgono noi, ci conosciamo, ci incontriamo. Ognuno di noi partecipa attivamente in questa associazione perché non ci sono capi, non ci sono dipendenti ma ognuno prende in carico un'azione da fare. Qual è il vantaggio di questo? Il vantaggio è proprio quello di scegliere quello che mangiamo in maniera consapevole senza andare al supermercato e riempire il carrello di qualsiasi cosa senza magari che ne abbiamo bisogno. Qui si compra quello che serve. C'è poi una spinta verso l'autoproduzione, quindi possiamo trovare la farina, le uova e farci i dolci in casa, possiamo usare la farina per fare il pane, lavoriamo anche, facciamo dei laboratori, mani in pasta, in cui le donne più esperte insegnano magari a quelle meno esperte a fare la pasta, le tagliatelle, i ravioli, la settimana scorsa abbiamo fatto i cantucci. È un po' un sistema diverso. Da tre anni curiamo il progetto Emporio e il mercato dell'altra economia. Il progetto è nato con la collaborazione della Res Marche e ha messo in rete una trentina di produttori locali. Chiaramente i valori che portiamo avanti sono il biologico, la filiera corta, i prodotti eco e solidali e in quanto noi siamo una cooperativa sociale, anche quindi la cooperazione sociale. Oggi l'evento che c'è stato è stato un dibattito, un convegno sulle mense bio e l'emporio è già attivo su questo progetto per quanto riguarda la mensa del comune di Saltara. Stiamo cercando di proporre sempre di più i nostri prodotti, i prodotti del territorio, biologici, a partire chiaramente dalle mense, dai bambini, tanto che poi abbiamo anche un progetto culturale che prevede l'educazione dell'ecosostenibilità nelle scuole come Emporio.